Buonasera dal campo del Bagnari a Arsa, la Juvenilia si allena secondo il protocollo della Federazione Italiana Rugby in accordo con il Ministero dello Sport in distanziamento sociale senza palla e senza contatto, l'importante per noi è mantenere il gruppo saldo e mantenere i ragazzi con la voglia di stare in campo e di stare insieme seguendo tutte le prescrizioni. Ben ritrovati a Rugby Magazine, puntata numero 20, puntata come avete visto in apertura il servizio da Bagnari a Arsa, nonostante il TPCM, nonostante tanti blocchi, il rugby continua nel rispetto ovviamente delle imposizioni, ma cercando di dare sollievo fisico, psicologico ai ragazzi, alle famiglie, cercare di dare una parvenza di normalità o quasi. Siamo in collegamento con Claudio Ballico, presidente del Comitato Regionale Rugby Fruenza Giulia, ben ritrovato presidente. Ciao Giancarlo, ciao a tutti quanti. Allora, com'è lo stato di vita del nostro rugby regionale con l'ultimo DPCM, ma anche con le interpretazioni che la Federazione Italiana Rugby ha dato a queste nuove indirizzi, come farà il mini rugby, come faranno i settori giovanili, i signores, i campionati sono tutti rimandati alla fine di gennaio, ma nel frattempo cosa le società possono fare? Beh, è molto chiaro, dopo due giorni di messaggi, di email e tutto, perché non si riusciva a capire la tutta una totale conclusione. Adesso finalmente abbiamo capito che torniamo a maggio, cioè possiamo correre, non passarci la palla, possiamo fare esercizi in modo tale da tenere i ragazzi in movimento e soprattutto da fargli stare in campo, perché altrimenti veramente non so cosa possa succedere, per cui andiamo avanti così, siamo un po' abiliti, però d'altro canto non possiamo farci niente, cerchiamo di stare vicino alle società, cerchiamo di mandargli continuamente esercizi tramite i nostri tecnici regionali, mandare esercizi come fare, come non fare, continueremo a fare riunioni per i tecnici e speriamo che questa disgrazia finisca presto. Com'è lo stato morale dei presidenti delle società di Provenza Giulia? Immaginabile, ma tu sei in contatto diretto tramite chat line, tramite telefonate, tramite riunioni, cosa si dice, cosa fanno, cosa si spera, cosa ci si augura, come reagiscono le società? Ma direi che la maggior parte delle società vuole andare avanti, tu hai prima assegnato Bagnaria, Bagnaria sta facendo un lavoro suo, ma le stesse società del Pordenonese, le Triestine, gli Udinesi, stanno tutte lavorando, sperando in un giorno migliore, ma in questo momento non sappiamo quello che succederà. Io dico solo alle società, abbiate pazienza, noi vi stiamo vicino, speriamo che tutto questo passi, speriamo che il 24 novembre quando ci sarà un nuovo decreto ci sia qualche limitazione in meno e poi finalmente a gennaio partire con i campionati. Sembra quasi che tutto questo ambaradan di PCM, di posizioni, di problematiche per lo svolgimento del rugby, si è messo in secondo piano la campagna elettorale, perché alla fin fine si inizia adesso a lavorare per le elezioni del prossimo anno. Dov'è la testa? Ai progetti futuri o alle problematiche odierne? Ma certamente alle problematiche odierne, non ha nessun senso pensare alle elezioni, cosa in questo momento è l'ultimo dei miei pensieri. Il mio pensiero in questo momento è stare vicino alle società, lavorare con loro, continuare a fare queste videoconferenze, sentire i loro prigioni, le loro cose. Anche oggi, ieri, il CONI ci ha dato altri termoscarner, abbiamo già chiesto alle società se ne hanno bisogno, cercheremo di dare un termoscarner a tutte quante. Però, ripeto, in questo momento non ho nessuna intenzione di passare alle prossime elezioni. Bene, Presidente, grazie di essere intervenuto, di averci aggiornato sullo stato regionale del rugby in Francia Giulia e ovviamente chiederemo di risentirci più avanti per gli stati avanzamento lavoro. Speriamo. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Speriamo. 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 Giancarlo tornati nella solita posizione di registrazione dopo mille lavori. Siamo qui per parlare di rugby, un rugby che sta subendo l'ennesimo rinvio, notizia di questi giorni che i campionati escluso il top 10 sono rimandati a fine gennaio, una cosa che era nell'area si sapeva ma mette in grande difficoltà le squadre che si stavano preparando alla ripartenza cioè quasi tutte, se la serie C, la serie B comunque dovranno riorganizzarsi anche la serie A dovrà fare i conti con altri tutto novembre, tutto dicembre, le festività e buona parte di gennaio prima della ripartenza difficile sì, fattibile altrettanto, ben più impegnativo è la situazione del mini rugby cioè la linfa del nostro movimento, riuscire a mantenere i bambini senza contatto quindi facendo solamente con esercizi di skills propedeutici, non è facile non è facile e sarà grande la disponibilità da parte dei allenatori, dei preparatori, degli educatori di cercare di mantenere vivo l'interesse attorno a questo sport che è fondamentale a questo punto per il mantenimento delle categorie giovanili che dire, non sarà un'impresa facile, sarà la speranza è che si possa continuare a fare l'allenamento individuale nel rispetto di tutte le norme e quant'altro fino ad oggi si può e quindi lo dico siamo perché anch'io allenando una categoria del mini rugby più una squadra senior, sono ben felice di poter continuare a fare il lavoro che mi piace nonostante ci siano un sacco di difficoltà del caso a parte questo il rugby deve cercare di ripartire, deve cercare di riprogrammarsi e deve cercare di provare a vivere questo periodo nella maniera più intelligente e più produttiva possibile investendo sulla ristrutturazione delle società, investendo sulla rivoluzione del lavoro ma cercare di darsi un tono per garantire il mantenimento dell'interesse mantenimento dell'interesse che anche a scapito del movimento la nazionale crea un po' di problematiche perché l'inizio del recupero di queste sei nazioni non è stato un inizio del tutto facile ma ne parleremo in un'altra occasione in questo caso mi sento di spendere ancora due parole per la grande capacità che le società stanno mettendo in campo nel tentativo di garantire il mantenimento dell'attività cioè seguendo quello che succede al governo, seguendo quello che viene decretato dalla FIRA e dai PCM del governo, le società sono state fino a questo momento abbastanza flessibili nel cercare di garantire la continuità del lavoro e questo è un aspetto positivo chiaramente questo decreto ha fatto sì che alcune società come ad esempio il Cus Potenza chiudessero la propria attività per la stagione e questa è la preoccupazione più grande per il movimento nel senso che ci possa essere un'ulteriore perdita di tesserati e di società che a fronte di tanti limiti preferiscono chiudere la speranza è chiaramente che non succeda, la speranza è di tornare prima possibile alla normalità o perlomeno di continuare questo momento di grande difficoltà in maniera di affrontare questo momento di grande difficoltà nella maniera più costruttiva e positiva possibile Giancarlo, grazie a tutti e alla prossima, ciao! Iscriviti al M Noi Grazie a tutti.